Resteranno in carcere 5 uomini di origine nigeriana finiti in manette per la maxirissa di Sayone, quartiere alle porte del centro storico Aretino. Il GIP del Tribunale di Arezzo Gianni Fruganti ha infatti convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio risale alla scorsa domenica quando un gruppo di nigeriani si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte e bastoni. I cinque dovranno rispondere di rissa aggravata e tre di loro anche di resistenza e violenza pubblico ufficiale. Stanno intanto proseguendo le indagini coordinate dal PM Marco Dioni per capire le cause della guerriglia urbana che ha coinvolto una cinquantina di persone. Secondo quanto emerge la lite potrebbe nascondere un regolamento di conti legato al mondo dello spaccio o della prostituzione. Questa settimana inoltre come annunciato al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal prefetto di Arezzo Clara Vaccaro saranno intensificati i controlli della zona. In arrivo già nelle prossime ore agenti speciali che affiancheranno le pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Speriamo che sia bene e che ritorni in una zona tranquilla come era in precedenza. È chiaro che se sarà fatta un po' di prevenzione prima forse questo non c'era bisogno però ormai è andata così e quindi ecco io spero che effettivamente si metta un tampone su questa cosa perché non se ne può più. Molto c'è bisogno di questi controlli. Qui fino ad ora se ne sono visti troppo pochi e i fatti lo dimostrano.